Siamo di fronte ad una serie di provvedimenti governativi assolutamente opinabili e comunque molto discutibili sotto vari profili. La stessa decisione della Corte Costituzionale è abbastanza da prendere nella dovuta considerazione, nel senso che, per l'amor di Dio, senza voler andare nel merito della decisione della Corte che ovviamente è suprema e quindi è indiscutibile. Però se noi teniamo in considerazione che nella stessa giornata, nella stessa udienza del 2 luglio, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del procedimento di riordino delle province, cosa per la quale ben sappiamo che proprio in data odierna il Governo ha già avviato tutta una serie di procedure per scavalcare questa decisione della Corte e per gli stessi motivi non si è intervenuto nel riordino invece del settore giustizia, evidentemente o questi motivi sono stati malposti ovvero sono incompleti, tant'è che le vicende davanti alla Corte Costituzionale sono ancora in itinere in quanto ci sono ancora diversi ricorsi pendenti, molti dei quali abbastanza importanti, tra cui quello remissivo del Tarlazio del 25 maggio che è un'ordinanza veramente completa sotto tutti i profili che riteniamo la Corte debba comunque esaminare. Però si susseguono le voci anche della volontà che comunque il Governo sta ancora nelle ultime ore cercando di manifestare per vedere di trovare una soluzione nell'ambito del riordino della giustizia. Si tratta di un'esigenza che ovviamente tutti condividiamo dalla politica, quindi dal Governo, all'Avvocatura, alla stessa cittadinanza. È chiaro che una razionalizzazione del settore giustizia è indispensabile. Sembra un pochino troppo eccessiva forse una radicale soppressione di uffici giudiziari a tappeto che non pare rispondere in maniera corretta a questa esigenza. Effettivamente c'è questa problematica di rivedere alcuni assetti ma, e mi riferisco in maniera particolare alle nostre zone, sappiamo benissimo che le vicinanze agli uffici giudiziari non sono così palmari, per cui le distanze ci obbligano a cercare di lottare per mantenere le nostre sedi giudiziarie.